Per me l'Associazione Bellunesi del Mondo è un'organizzazione che nonostante la notananza ci permette di stare uniti e di mantenere vive le nostre nobili radici montanare, delle dolomiti bellunesi, tipiche della cultura contadina, basata sui valori della parola, solidarietà, memoria, gratitudine, valori che spero l'Associazione riesca a far riscoprire ai giovani che vivono nel bellunese, così attualmente distratti e confusi dalla televisione. Arrivederci e grazie. Adios!